Ciao, se stai guardando questo video è probabilmente perché hai acquistato il profumo Notti Serene, che è un profumo naturale a base di oli essenziali e melatonina, studiato per favorire il sonno, aiutare a addormentarsi e a dormire meglio. Sono Tommy Serafini, sleep coach e autore del libro Anche stanotte non ho chiuso occhio, e in questo video ti spiegherò come si usa il profumo Notti Serene per ottenere la massima efficacia e ti mostrerò una breve sequenza di tre tecniche che si fanno in un paio di minuti nel momento, proprio nel momento in cui vai a letto, come preparazione, come rituale per dormire meglio. Allora, prima di tutto puoi spruzzare un puff di profumo sul cuscino e in questo modo, durante le prime ore della notte, continuerai a respirare le molecole profumate che agiscono sul sistema limbico e quindi proseguirà il loro effetto calmante nell'arco della notte. Poi piano piano il profumo svanirà in modo naturale senza lasciare tracce persistenti sulla stoffa e sul cuscino. A questo punto ti siedi sul bordo del letto, fai uno spruzzo sul collo in modo che il calore del corpo intensifichi le note profumate e poi facciamo un altro puff di profumo sul polso, così. Sfreghiamo i due polsi e poi con le mani a conchetta, quindi non piatte, ma a conchetta, facciamo una pressione tutto attorno alla zona perioculare, quindi non premiamo sull'occhio, ma facciamo una pressione abbastanza decisa su tutta la zona attorno all'occhio, proprio rilassando gli occhi e lo sguardo e facciamo un lunghissimo inspiro, perché abbiamo il naso vicino ai polsi, riempendoci proprio delle note profumate e sentendo la calma che entra dentro di noi, quindi in questo modo. E poi adesso buttiamo fuori con un lungo sospiro tutte le tensioni, i pensieri che abbiamo dentro, così. Poi col polso su cui avevi messo il profumo comincia a fare un leggero massaggio rotatorio sul plesso cardiaco, così. Massaggio in senso anti-orario e non avere fretta, proprio devi assaporare il movimento lento, rilassante e proprio come se stessi sciogliendo tutte le tensioni che si annidano nel cuore e a volte anche nella bocca dello stomaco, proprio senti tutta la zona, senti il cuore che si rilassa. E fallo per circa mezzo minuto facendo proprio dei sospiri mentre respiri, quindi in questo modo. Poi passiamo a un'altra zona in cui si annidano le tensioni, che sono un po' quelle che ci fanno digregnare i denti durante la notte e magari ci fanno svegliare col viso segnato o affaticato. Si tratta del masseterre, che è quel muscolo che ci fa stringere i denti e identificarle è molto facile perché basta appoggiare le mani al lato del viso e stringere i denti un paio di volte e sentirai un muscoletto sotto le dita che si gonfia. In pratica è sulla guancia, quindi lo puoi seguire col dito seguendo l'arcata dei denti, poi a un certo punto i denti finiscono e c'è una sporgenza che sembra un osso, in realtà è il muscolo masseterre. E quindi noi appoggiamo le dita qua o anche un dito solo sul muscolo e rilassiamo la mandibola e poi facciamo un movimento rotatorio, una pressione, un movimento rotatorio come per sciogliere la tensione su questo muscolo. E' importante tenere la mandibola rilassata. Un modo per aiutarsi a tenere la mandibola rilassata è tenere la bocca socchiusa, quindi non i denti chiusi ma la bocca un po' per socchiusa. Se vuoi essere sicuro puoi prendere proprio la mandibola e muoverla. Se la riesci a muovere senza sentire resistenza vuol dire che effettivamente la stai tenendo rilassata. E poi comincia a fare questo movimento rotatorio con una pressione, puoi anche un po' scavare su questo punto e cerca proprio di rilassarlo, proprio socchiudi gli occhi, socchiudi la bocca e senti proprio mandi via con la pressione le tensioni che ci sono in questo punto e lo fai circa per mezzo minuto. Poi appoggi molto delicatamente un dito tra le sopracciglia qui al terzo occhio. Deve essere una pressione estremamente leggera, proprio uno sfioramento e questo tocco rilasserà proprio in modo istantaneo gli occhi, in modo riflesso, perché anche negli occhi si andano delle tensioni. Spesso non ce ne accorgiamo, non ci rendiamo conto che stiamo strizzando gli occhi magari anche per tutta la giornata e senti proprio come si distende il viso. Lo facciamo anche qui per 30 secondi e poi con due dita puoi fare anche qui con una pressione leggerissima degli scivolamenti, proprio come una carezza, sopra le sopracciglia e anche questi sfioramenti, questi punti che andiamo a toccare, che sono poi dei punti energetici, inducono proprio, oltre a distendere il viso e togliere le tensioni che si anidano nel viso, proprio inducono un rilassamento molto profondo. A questo punto sei pronto per spegnere la luce e scivolare nel sonno, quindi a questo punto mi raccomando niente tv, niente telefono, dopo che hai fatto questi esercizi devi andare a letto e spegnere la luce. Se vuoi leggere, guardare la tv, fallo prima e dopo fai questi esercizi. Allora adesso nel fare queste tecniche ci ho messo un po' di tempo perché te li stavo spiegando, però il tutto si fa in meno di due minuti, quindi adesso ti faccio vedere la sequenza completa senza spiegazioni in tempo reale per darti un'idea dei tempi. Ricapitolando, inspiro profondo del profumo e espiro. Mezzo minuto di massaggio al cuore, mezzo minuto di massaggio alla mandibola, mezzo minuto di massaggio al punto tra le sopracciglia, qualche scorrimento, qualche sfioramento sopra le sopracciglia. inspiro e espiro soffiando fuori le tensioni e rilasso la zona del cuore. cerco il massettere, rilasso la mandibola, rilasso gli occhi, succhiudo la bocca e massaggio. mi concentro proprio sul rilassamento della mandibola, sento il viso che si distende. poi con un dito tra le sopracciglia, scorrimento leggerissimo, faccio un piccolo movimento anti-orario, rilasso gli occhi, sento proprio come quasi un solettichino qua nella zona che mi distende il viso, lo sguardo. soffoco lo sguardo verso l'infinito e soffiudo gli occhi. e poi faccio qualche scorrimento con una pressione leggerissima sopra le sopracciglia, sempre tenendo rilassati e quasi socchiusi gli occhi, soffocando lo sguardo all'infinito. e a questo punto mi metto a letto e spengo la luce subito. ti ricordo che il profumo noti serene non è un farmaco per dormire e non si sostituisce a un'eventuale terapia farmacologica che stai seguendo, però lo si può affiancare per avere un maggiore sollievo e sperimentare su di te i benefici dell'aromaterapia. Sono certo che questa semplice sequenza rilassante ti darà grandi benefici in termini di qualità del sonno. Fammi sapere nei commenti com'è andata e che sensazioni ti danno le tecniche quando le metti in pratica. Se vuoi approfondire l'argomento degli esercizi per dormire, ti consiglio di visitare il mio canale YouTube, dove ci sono molti video pratici, oppure nel mio libro che trovi su Mondadori Store o su Amazon e metto il link in descrizione.